salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale un prodotto secondo me divertentissimo se avete dei bambini dei ragazzini da fare divertire all'aperto un prodotto che vola perché come sapete qua sul canale arrivano spesso droni di ogni tipo ma questa volta arriva un prodotto che vola ma non è un drone è un uccello quindi ha tutte le movenze e l'estetica di un uccello ma si controlla appunto con un radiocomando è un radiocomando semplicissimo che qualsiasi bambino può utilizzare e secondo me l'idea è davvero geniale il prezzo è abbastanza abbordabile perché comunque parliamo di poco meno di 50 euro link di amazon in descrizione c'è di varie colorazioni ovviamente mia figlia l'ha scelto fucsia ma c'è anche azzurro giallo verde quindi c'è tante colorazioni però è sicuramente un prodotto che vi farà divertire tanto soprattutto adesso che stanno per arrivare le belle giornate da utilizzare in giardino o in un campo ma adesso diamo un'occhiata cosa c'è all'interno della confezione e poi lo andiamo a provare insieme allora nella confezione davvero semplice ve lo dico subito contiene pochissimo abbiamo solo una guida rapida e che ci spiega come iniziare velocemente ad utilizzare questo prodotto come vi ho detto è anche in lingua italiana quindi semplicissimo con anche i disegni per come si fa a lanciare quindi davvero semplicissimo poi abbiamo i manuali invece diciamo un po più completi anche se c'è poco da essere completo perché tutto talmente semplice quindi manuali e poi abbiamo il prodotto vero e proprio all'interno troviamo un controller che è questo quindi si utilizza con una mano poi ve lo faccio vedere tra poco poi abbiamo lui che ha comunque ha l'aspetto di una fenice secondo me assomiglia moltissimo a una fenice come vi ho detto mia figlia ha voluto fucsia ma c'è di varie colonazioni poi abbiamo un cacciavite per andare a smontarlo rimontarlo nel caso dovessimo avere dei problemi tecnici e poi abbiamo una batteria di ricambio e la chiavetta usb per ricaricare le batterie le batterie incluse sono due e con la chiavetta usb basta collegarle in qualsiasi presa usb del pc o di una presa multipla che abbiamo dove carichiamo lo smartphone per ricaricare queste batterie che si ricaricano anche in maniera molto veloce quindi nella confezione quello che c'è è tutto qua quindi avete visto davvero minimal però importante già è il discorso di avere due batterie che sicuramente ci fanno divertire poi attaccando la chiavetta usb di ricarica a un power bank o questo per intenderci un power bank qualsiasi potremmo ricaricarle quando siamo in giro quindi se siamo a fare una gita o un nick nick e vogliamo portarlo le due batterie non ci bastano ovviamente basta attaccare la chiavetta usb al power bank e li ricaricheremo avremo subito pronte delle altre batterie perché comunque si ricaricano in maniera abbastanza veloce l'uccello ragazzi è questo ed è davvero ben fatto ovviamente il suo punto di forza è che leggerissimo praticamente non ha peso anche le ali sono fatte tipo di celofan super sottile una struttura davvero scheletrica che contiene addirittura però un sensore anti collisione e il fatto che ci sia però lascia il tempo che trova i ragazzi e anti collisione come me nel senso non calcolate il senso dell'anti collisione più una cosa per dire sulla confezione ha anche il sensore anti collisione però in realtà anche no però per il resto ragazzi è davvero fantastico poi adesso ve lo accendo prima di andare a provarlo qua invece abbiamo il radiocomando semplicissimo lo utilizziamo con una mano il tasto qua davanti farà accendere o spegnere questo uccello quindi in un attimo lo accendiamo in un attimo lo spegniamo il joystick è davvero intuitivo quindi destra sinistra accelerare e rallentare e poi abbiamo quattro tasti che ci danno dei voli automatici non so se funzioni o meno ma li proveremo poi quando andremo a fare la prova tra poco in esterna e qua abbiamo il tastino per andare a accendere il controller vedete che si è acceso il led verde lui è pronto per andare a comandare questo uccello volante una cosa da dire che le batterie del radiocomando non sono incluse vanno dentro due batterie AAA che dovremmo mettere noi allora il radiocomando è acceso vado ad accendere l'uccello volante c'è un pulsantino qua sotto lo andiamo a schiacciare vedete che si sono accesi i led c'è il led verde quindi lui è già pronto quindi basterà andare a schiacciare il tasto davanti al nostro controller e lui è pronto a volare quindi ragazzi direi di non perdere tempo e andiamo a provarlo perché deve essere secondo me una cosa fuori di testa andiamo ok ragazzi quello che secondo me è il dji fpv killer cioè questo uccello volante questa fenice che viene venduta pure con motion control già di serie quindi la confezione trovate il motion control mentre col dj fpv è a parte qua invece è tutto incluso ovviamente ragazzi sto scherzando però ovviamente poi arriverà il volo del vero dj fpv intanto però accontentiamoci di questo che secondo me al suo perché dal punto di vista del divertimento del fare divertire i bambini i nostri figli quindi un divertimento sicuramente assicurato ad un prezzo ovviamente molto 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 più basso del dj fpv link in descrizione di amazon se volete dargli un'occhiata e adesso ragazzi però direi di non perdere il tempo e andiamo a provare questo uccello volante quindi andiamo a accendere il radiocomando premendo il pulsantino qua il led verde si accende perfetto e adesso andiamo a accendere il nostro uccellaccio volante quindi pulsantino qua sotto il led lampeggia e adesso è verde fisso i due dispositivi comunicano quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e proviamo questa fenice pronti ragazzi allora 3 2 1 via è bello ragazzi ma guarda che bello che è è bellissimo torna di qua che dirà c'è il torrente bravo bravissimo bello ma guarda che bello che è poi se non fate niente comunque lui sta in aria guardate poi lo girate a destra o sinistra ma intanto sta in aria da solo e guardate fantastico fantastico guardate io lo faccio andare sulla destra e sinistra lo faccio tornare indietro bellissimo guardate stupendo stupendo ragazzi è stupendo un bambino non è che si diverte si diverte tantissimo mi diverto io figuriamoci ragazzi stupendo alla faccia di tutti i droni fpv mavic pro air qualsiasi cosa cioè guardate che bellissimo bellissimo guardate stupendo guardate praticamente lui sta in aria da solo e lo fate andare solo a destra o sinistra cioè praticamente solo nel momento in cui lo dovete fare scendere o alzare di quota allora intervenite se no no e guardate bellissimo guardate adesso vediamo se arriva cortate fantastico 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 ragazzi è fantastico bellissimo adesso lo faccio venire qua ovviamente bisogna dargli solo il comando di direzionarlo poi lo si fa venire vedete cioè io gli do solo il colpetto per girarlo verso di me e poi lo lascio andare guardate ovviamente se si dà gas tirando in su aumenta di quota se invece si dà verso il basso e scende di quota perché lui decelera adesso lo faccio salire un po guardate vedete che sale se invece faccio così lui scende bellissimo bellissimo guardatelo è fantastico è fanta geniale è geniale perché è semplicissimo è leggerissimo quindi difficilmente lo si può rompere senza fare cose assurde è davvero davvero bello unico rischio se finisce su una o su un tetto è adesso guardate lo faccio girare verso di me poi lascio e lui torna gli do un altro colpetto verso di me guardate fantastico grazie geniale geniale alla faccia del dji fpv che ovviamente vedremo qua sul canale ma oggi proviamo lui il google bird e il dji fpv killer con addirittura il motion control fantastico guardate che bello adesso lo faccio atterrare vediamo che poi anche i minuti di volo cioè guardate quanti minuti che fa adesso non sto guardando realmente però mi sembrano tanti per comunque la batteria è non piccola microscopica poi averne due la possibilità di ricarica wow guardate che bello che è adesso quando glielo faccio provare a mia figlia secondo me diventa amata perché lei lo sa che l'abbiamo preso infatti ha scelto lei il colore fuchsia ma non l'ha ancora provato perché ho detto prima lo provo in un video perché poi se lo disfiamo prima del video guardate che roba anche perché non costa una cifra assurda è un regalo secondo me bellissimo poi comunque una volta che lui il google bird è in quota ragazzi dovete solo direzionarlo destra e sinistra perché poi se lo fate salire troppo di quota dopo diventa anche difficile controllarlo capire la direzione le distanze adesso lo faccio scendere un po guardate tirando verso il basso lui rallenta le ali e hop scende di quota adesso lo abbiamo a questa quota dopo lui mantiene questa quota bene o male quindi la cosa bella è questa che non bisogna tenerlo in quota o continuare a dare gas ovviamente non ci deve essere un filo d'aria è tipo adesso c'è proprio aria zero quindi è proprio il diciamo il tempo ideale poi non c'è neanche il sole quindi non non si va mai contro sole che ci abbaglia lo vediamo sempre però il be proprio ragazzi che sta in aria da solo sedo gas aumenta e sale vedete adesso fatto tornare di qua perché amica che va sopra con le piante che mi dispiacerebbe davvero tanto perché è troppo troppo bello e guardatelo ovviamente non ha un overing e lui tende sempre a muoversi e non sta fermo in overing però vedete che se non tocco niente rallenta abbastanza e va molto lento e adesso non sto toccando niente guardate fantastico bellissimo guardatelo che passa sopra wow bello adesso lo facciamo atterrare atterrare basta spegnerlo e lui dovrebbe planare a meno che vogliate farlo atterrare voi però se lo spegnete lui plana perché fa tipo a delta fa tipo aliante o deltaplano quello che volete guardate ma poi minuti di volo incredibile cioè non si è ancora scaricato ed è un po che lo sto usando adesso poi con due batterie veramente non c'è una fine se poi calcoliamo che le possiamo ricaricare con un power bank da tanta roba perché con un power bank e le possiamo ricaricare mentre utilizziamo una carichiamo l'altra e si ricarica veloce perché sono piccolissime però consumo praticamente nullo di batteria è incredibile dura di più di un drone fpv fantastico fantastico ragazzi questo è il futuro altro che dj google bird il dj fpv kill fantastico atterraggio se fosse stato più in alto plana proprio diciamo tipo deltaplano invece così avete visto che è sceso ma assolutamente tutto indolore ovviamente il sensore anti collisione che abbiamo davanti non l'ho nemmeno provato perché c'è giusto per estetica secondo me ma non ha proprio senso quindi ragazzi fantastico fantastico quindi ragazzi non è promosso di più qua stiamo veramente toccando la perfezione del volo tanta tanta roba direi che un regalo da fare assolutamente adesso che arriva la bella stagione per fare stare i nostri figli fuori di casa in giardino ovviamente se avete un giardino abbastanza grande perché altrimenti rischiate comunque che vi si vada in pigliare da qualche parte non riuscite per recuperarlo o in un campo come questo un campo normalissimo quando date magari fare una gita se si potrà fare le gite visto la situazione di melma che stiamo attraversando comunque ovunque voi andiate ragazzi potete portarvelo ed è un divertimento assoluto e vola vola bene avete visto che una volta che è lui è in quota destra sinistra e mantiene la quota ovviamente se diamo gas sale se togliamo gas scende però se si sale il rischio poi aumenta che comunque magari c'è un po di più di corrente d'aria e poi si fa fatica a calcolare la distanza a farlo magari manovrare perché comunque ovviamente il segnale qua non pensate che ci sia un segnale ocu sync di dji c'è un segnale chiamiamolo così però se non si esagera funziona benissimo e fa il suo dovere le batterie mi hanno impressionato praticamente non ne ho usata neanche una intera ho finito di utilizzarlo nel video che avete visto senza avere finito la batteria quindi non so bene quanto sia durata fate il conto voi però penso tanto per calcolando che ce n'è un'altra in confezione la possibilità di ricaricarla con un power bank perché loro si ricaricano attraverso la chiavetta usb che vi viene data in dotazione cioè fantastico 49 euro ragazzi ma li vale tutti dal punto di vista del divertimento dal punto di vista strutturale probabilmente no perché c'è davvero poco ma dal punto di vista del divertimento è qualcosa di strepitoso semplice geniale e poi è bello da vedere cioè a differenza magari di un drone che un bambino dopo un po' magari si smarrona di vedere il drone questo ha comunque questo aspetto estetico molto accattivante i colori molto accattivanti che sia questo colore o gli altri disponibili comunque questa linea accattivante che lo rende davvero super super affascinante l'unica cosa che dovete acquistare è lui e due batterie tripla da inserire nel controller perché quelle non ci sono in confezione quindi ragazzi se questo video con il gogo bird il dji fpv killer in attesa che arrivi ovviamente il video con il vero dji fpv vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità curiosità anteprime spoiler stampe 3d dove vado a volare con i droni fpv quindi tante cose arrivano su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale tagliamo offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube e non perdevi neanche un video un volo una recensione come questa un tutorial o una novità ciao ciao ciao